Però ho sempre pensato che lui avesse una faccia da oste, questo immaginavo da studente. Io arrivavo una sera di nebbia e lui diceva cominciamo con due ciccioli o subito la trippa. Io dicevo due ciccioli. Ho visto come se seduto sulla tomba, era come se si sedesse a un tavolo di ristorante, meraviglioso, meraviglioso. E ha la faccia, adesso posso dirlo, avendo quasi la sua età, del compagno di banco buono che ti fa copiare. E allora perché non copiarlo? Quando è nata questa cosa era evidentemente un'altra età, gli erano agli anni 50. E forse abbiamo ritoccato un po' col sindaco e altri il concetto di Luzara Chioride. Cioè l'importante era portare la gente a scrivere di quello che ha visto, di quello che sogna, di quello che sa. E infatti abbiamo avvenimenti immaginari, eccetera. Sempre restando al termine del passaggio a livello, non ci sembrava però giusto mettere delle sbarre alla voglia di scrivere dei luzaresi e dintorni. E quindi se uno faceva una cosa scritta bene ma non da ridere, a noi andava bene lo stesso. E quindi devo dire, facendo parte della giuria, che sono arrivate tantissime cose, un centinaio circa, e che molti di più avrebbero meritato di. Però è come il teatro, più di tanti non ci stiamo, dovevamo selezionarne 10. Abbiamo fatto uno sforzo per arrivare a 15 e abbiamo copiato questa cosa di Zavattini. Speriamo di aver fatto bene. Per dire dell'attualità di Zavattini, poi finisco, fammi dei segni, visto che improvviseranno bene. La mia difesa della lingua italiana mi proibisce di dire t-shirt, ma ci sono delle magliette in vendita fuori. Il nostro indossatore ne mostra una, molto belline, ma è importante quello che c'è scritto sul dietro. Ci sono due... No, 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 non farlo, dai. A parte che io mi sono fidato di un sindaco chiaramente magro, ma io di fido non solo, ma che come massimo di magliette ha fatto stampare la XL. Se volevate... ma io fa niente, dimagrisco pur di entrarci. E ci sono scritte delle cose dietro, che non sono né da ridere né da piangere, sono un po' da pensarci sopra. E una dice, noi pensiamo sempre al dopo, ma in questo periodo bisogna avere il coraggio dell'oggi. E io credo che sia una frase su cui riflettere, molto. Esattamente come una che mi aveva... un'altra è, non mi interessano i fatti, ma gli uomini. E una frase che mi aveva colpito quando appunto mi ero innamorato molti anni fa di Zavattini era che lui diceva che un giornalista deve pedinare la realtà. Ecco, pedinare a noi fa venire in mente un pochino gli investigatori privati che si appostano. Invece per noi pedinare è tenere d'occhio. E credo che il primo compito di un giornalista, che si rispetti, ovviamente molti non si rispettano, sia di tenere proprio d'occhio la realtà. Per il resto mi sembra di aver parlato anche troppo, fai il tuo dovere. Grazie. 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 Grazie.